Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura i dati dei contagi in Lombardia riguardo appunto il Covid. Si conferma il trend positivo, come potete vedere dalla nostra tabella, dei guariti dimessi che sono più 152, sempre elevato il numero di tamponi effettuati, 17.831, 159 nuovi positivi per una percentuale che è pari allo 0,89%. Nessun contagio a Sondrio nel milanese, contagi in calo. Ricordiamo che l'incremento dei casi positivi in Lombardia, come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati, senza mai dimenticare che se si ragiona in termini i confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a un sesto della popolazione nazionale, due i decessi nelle ultime ore. Vediamo i contagi per provincia. Milano abbiamo detto 60, in provincia di cui 24 a Milano città, Bergano 4 nuovi contagi, a Brescia 14, Como 2, Cremona 2, Lecco 2, Lodi 14, Mantua 10, Monza e Brianza 15, Pavia 6, Sondrio nessun contagio nelle ultime 24 ore. A Varese 13 contagi. Ieri a 24 ore dalla prima campanella dell'anno scolastico iniziato in pandemia, erano già quattro nel milanese le classi messe in quarantena dall'azienda tutela della salute metropolitana, dopo la scoperta che altrettanti bambini che avevano frequentato il primo giorno di scuola erano positivi al coronavirus. Le scuole che si trovano le Ninterland milanese sono una primaria, una dell'infanzia, un nido e un nido materna. In uno dei nidi, oltre alla classe del bambino contagiato, è stata messa in isolamento anche l'educatrice, fa sapere l'ATS senza fornire ulteriori dettagli. Stamattina sciopero dei lavoratori della sanità privata in tutta Italia, presidio in piazza San Carlo a Milano, chiedono che venga siglato il nuovo contratto di lavoro. Alberto Carreras. Giornata di sciopero, quella di oggi per i lavoratori della sanità privata, che si sono ritrovati in presidio a Milano nella centralissima piazza San Carlo. L'agitazione organizzata da CGL e Cisle Will mira a sbloccare il rinnovo del contratto nazionale, un contratto che coinvolge 100 mila lavoratori a livello nazionale e ben 50 mila in Lombardia. I sindacati lamentano che dopo 14 anni di blocco contrattuale, tre anni di trattative serrate e una preintesa raggiunta allo scorso 10 giugno, le controparti ARIS e AIOP non hanno sottoscritto il nuovo contratto, con pretesti ritenuti senza fondamento, la non esistenza di condizioni per portare alla sottoscrizione. Oggi qui in piazza ci sono i nostri lavoratori professionisti, infermieri, ossa, usiliari, tecnici, per manifestare perché è il momento di dare un contratto, un contratto che era già sottoscritto in ipotesi, manca la ratifica definitiva, è il momento di fare un passo in avanti, chiediamo ad AIOP ARIS la sottoscrizione definitiva. Siamo stufi di aspettare, vogliamo una risposta in questi giorni definitiva per la prima del contratto, tra troppi anni stanno aspettando gli adeguamenti salariali e contrattuali e credo che questo sia un diritto per tutti e anche per una buona qualità della sanità. Abbiamo il personale dei pronti soccorsi, al personale dell'emergenza, al personale che lavora in radiologia, al personale di supporto che era nelle parti di subintensiva di Covid, oggi tutto questo personale è qua per dimostrare che eroi soltanto nella carta, nelle parole, ma mai come la sottoscrizione di un contratto, è il momento che non si può più aspettare, dobbiamo sottoscrivere il contratto definitivamente. Gravissimo incidente stradale stamattina a Milano tra un'auto e una monopattina elettrica, lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle 11 nel sottopasso Mortirolo, il tunnel che si trova proprio dietro la stazione centrale, il conducente del monopattino, 34 anni, per motivi ancora non acclarati, forse per una buca, ha perso l'equilibrio mentre si trovava al lato destro della carreggiata. In quel momento sopraggiungeva l'auto che nulla ha potuto per evitarlo, dopo l'impatto che sarebbe avvenuto con lo spicolo destro della macchina, il 34 anni che si trovava alla guida della tavoletta elettrica ha sfondato il parabrezza dell'auto ed è finito sull'asfalto. Si tratta di un monopattino di proprietà e non di quelli a noleggio con i servizi di sharing, il guidatore non indossava il casco. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e di un'automedica, il 34 anni è stato portato in ospedale in codice rosso, a Niguarda inizialmente si era anche rialzato dopo la caduta ma poi ha perso i sensi, le sue condizioni vengono giudicate molto delicate. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi per ricostruire le cause e le responsabilità dello schianto. 353 contravvenzioni da luglio alla metà di settembre a cittadini sui monopattini a Milano, intanto arrivano gli steward per vigilare sui fruitori di questi nuovi mezzi di trasporto. La polizia locale di Milano da luglio alla metà di settembre ha emesso 353 multe a cittadini su monopattini per infrazioni del codice della strada. La maggior parte delle multe, come hanno spiegato dalla polizia locale, sono per circolazione sul marciapiede, per passeggero a bordo e qualcuna per minore di 14 anni che circolava senza casco. Ogni giorno sulla pista ciclabile di Corso Buenos Aires circolano 7.000 tra ciclisti e monopattinisti, ha detto l'assessore alla mobilità del comune Marco Granelli, a margine della presentazione delle iniziative sulla sicurezza con le società di noleggio. Sono un quarto dei veicoli che passano in totale. A Milano intanto arrivano gli addetti alla sicurezza dei monopattini che controlleranno, informeranno i cittadini, sulle regole da rispettare quando si usano questi mezzi. Il progetto fa parte della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza lanciata dal comune, con le sette aziende che hanno aderito al servizio di noleggio in città. Gli stewards controllano le strade di Milano, fermano le persone che non rispettano il codice della strada e spiegano il regolamento di circolazione. Durante le ore diurne le zone pattugliate comprendono il centro storico, da San Babila a Cairoli, mentre durante le ore notturne le aree più pattugliate sono quelle della Movida. Dunque l'avete sentito dal servizio, sette stewards fino al 24 settembre controlleranno giornalmente le strade di Milano. Sentiamo l'assessore alla mobilità del comune, Marco Granelli. Sette operatori insieme col comune, con Amat, che si fanno carico di ricordare ai cittadini che il monopattino è utilissimo. Ci aiuta perché meno traffico, meno inquinamento, ma è un veicolo e quando sei in strada bisogna rispettare il codice della strada, non bisogna andare sui macciapiedi e bisogna stare attenti. E questo lo diranno, oltre che i messaggi, i bigliettini, le scritte, eccetera, anche alcuni steward, sette stewards, che tutti i giorni sono in strada con pettorina a ricordare queste cose ai cittadini. È un bel segnale di come insieme ci si fa carico di aiutare la sicurezza di Milano, la mobilità e lottare contro il traffico. Ma sette stewards bastano in una città grande come Milano? Io penso che sette stewards sono molti di più di zero e poi per la prima volta sette operatori, un comune, insieme per mettere qualcosa in più. Io penso che questo sia un grosso segnale di cambiamento, poi certo c'è la polizia locale, ci sono tutte le cose, ma questo è un farsi carico insieme, non solo di dare messaggi, ma essere in strada e penso che sia un bel segnale. Attimi di paura all'esterno della scuola di via Pier Alessandro Paravia a Milano, oggi un bambino di 12 anni è stato travolto da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Tutto è accaduto pochi minuti dopo mezzogiorno, in un primo momento le condizioni del 12enne sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. In codice rosso fortunatamente le ferite si sono rivelate meno gravi del prevedibile, il 12enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda, secondo quanto trappelato avrebbe riportato un trauma cranico, oltre a un trauma al torace. Ancora cronaca, arrestati dalla polizia due stranieri in stazione centrale, avevano da poco rubato uno zaino ad una turista, come vediamo nelle immagini di questo servizio. Hanno rubato uno zaino a una turista asiatica, ma poi sono subito stati arrestati dagli agenti della polizia ferroviaria di Milano nel corso di un servizio antiborseggio alla stazione centrale. I due fermati sono un cittadino palestinese di 23 anni e un cittadino libico di 25. Sono accusati di essere loro i responsabili del furto aggravato in concorso di uno zaino ai danni di una turista asiatica. I poliziotti hanno notato i due avvicinarsi in modo sospetto a una turista nei pressi del corridoio che conduce alla biglietteria, mentre uno di loro ha assunto le funzioni di palo, osservando l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine, il complice, con un'abile mossa, ha sottratto lo zaino della viaggiatrice. Il tutto fortunatamente registrato dalle telecamere di videosorveglianza della stazione centrale di Milano. Uno dei due ladri si è allontanato dalla stazione con lo zaino tra le mani per poi incontrarsi con il complice in via Vittor Pisani nei pressi dell'uscita della stazione ferroviaria. I poliziotti sono riusciti a bloccare i due malviventi mentre cercavano di darsi alla fuga. Dopo aver tentato di fare acquisti con una carta di credito rubata, due romeni, un 25enne e un 28enne, sono stati arrestati. I due con precedenti polizia sono accusati di indebito, utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento in concorso avevano anche il vizio di filmare con i telefonini le loro, tra virgolette, imprese delinquenziali. Gli agenti li hanno fermati in un negozio di via Brunelleschi a Milano lunedì pomeriggi dopo che il commerciante aveva segnalato che i due erano tornati. Dopo aver tentato nei giorni precedenti di acquistare merce con una carta di pagamento le cui transazioni erano state sempre negate. Alla vista dei poliziotti i due si sono dimostrati molto nervosi. Il 25enne con una mossa rapida si è disfatto della carta con cui stava provando a pagare uno smartphone da 1200 euro. La carta è risultata intestata a una donna che circa un'ora prima ne aveva chiesto il blocco alla banca dopo essere stata borseggiata segnalando anche alcuni prelievi fatti nei momenti successivi al furto. Contattata dagli agenti, la donna aveva spiegato che le era stato rubato anche lo smartphone. Gli accertamenti sul cellulare del 25enne hanno permesso di appurare che l'uomo con altri complici filmava i borseggi che compiva nelle stazioni della metropolitana. La scorsa notte caccia alla colonia di Topi in piazza San Babila a Milano. I roditori si erano allontanati dalle loro tane a causa del cantiere della M4 che ovviamente li disturbava e avevano creato una nuova dimora su un'aiuola vicino alla fontana di San Babila. La caccia ai topi è avvenuta questa notte in piazza San Babila a Milano. Da alcuni giorni una colonia di decine di questi roditori, forse infastidita dal cantiere della metropolitana e forse attirata da quel certo tipo di aiuola, aveva creato la propria tana sotto gli occhi dei passanti in una di quelle zone che vengono definite il salotto della città. Certamente una brutta immagine per il capoluogo lombardo. È stata una battuta di caccia per così dire che ha impegnato una squadra di tecnici tutta la notte. È stato deciso che le tre aiuole a fianco della fontana per il momento verranno sostituite da semplice prato. Le radici del bosso, pianta utilizzata per decorare la zona, sembra abbiano attirato i topi. I roditori probabilmente sono stati infastiditi dai lavori di scavo e dal rumore del cantiere del metro 4. Lavori che hanno stravolto la loro tranquilla vita sotterranea e sono emersi in superficie proprio nella aiuola al centro della piazza, a fianco della fontana, stabilendo lì la loro dimora. La disinfestazione è stata portata avanti da personale del Comune, dell'AMS e dell'ATM. Anche la stazione del metro è stata chiusa in anticipo sull'orario previsto. Adesso bisognerà attendere alcuni giorni per vedere se l'operazione ha avuto l'esito sperato. Sette minorenni di età compresa tra i 13 e i 15 anni sono stati segnalati dalla Polizia di Stato alla Procura della Repubblica per i minori di Milano per aver bullizzato un anziano disabile nel centro di Busto Arsizio in provincia di Varese. A quanto emerso il gruppetto ha preso di mira il pensionato seduto su una panchina del centro cittadino comprendolo di insulti, sputi e tirandogli addosso anche un panino a fermarli è intervenuta una volante della Polizia. Gli agenti hanno provveduto a redigere un verbale sull'accaduto e destinato alla magistratura minorile per attivare l'intervento dei servizi sociali in attesa della querela di parte. Mancano quattro giorni al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. Domenica 20 e lunedì 21 settembre siamo chiamati alle urne per votare il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari di Camera e Senato. Non è previsto il quorum, dunque ogni risultato sarà valido indipendentemente dalla partecipazione alle urne. La legge di riforma costituzionale prevede che alla Camera i deputati passino dagli attuali 630 a 400 e al Senato i senatori da 315 a 200. Si vota domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. La consultazione è abbinata alle elezioni regionali e comunali. Come sempre bisogna portare la tessera elettorale e la carta d'identità o un documento valido. Se vince il sì la riforma sul taglio dei parlamentari entra in vigore, se vince il no viene bocciata. Sulla scheda ci sarà una sola domanda e sono previste solo due risposte, appunto il sì oppure il no. Insomma Camere e Senato vengono ridotte di poco più di un terzo. Oggi c'è un deputato ogni 96 mila abitanti, con il taglio ce ne sarebbe uno ogni 151 mila. A Palazzo Madama oggi siede un senatore ogni 188 mila abitanti, con il taglio ce ne sarebbe uno ogni 302 mila. Secondo calcoli istituzionali il risparmio annuo sarà di 53 milioni alla Camera e 29 milioni al Senato. Diamo un'occhiata al giorno.it, pagina di Milano, morta Liliana Feldman, addio alla voce di Milano, si è spenta a 94 anni in radio, ha condotto Ciccia Rem, un cicinin, ha lavorato con Febo Conti ed Enzo Tortora, è recitato con i mostri sacri del teatro. Nella foto lo vediamo proprio con Ernesto Calindri, era figlia di due attori del teatro dialettale, da tempo viveva a Brusimpiano in Svizzera. iniziò la carriera alla fine degli anni 40, in radio, conducendo tra l'altro a Radio Milano, Ciccia Rem, un cicinin in dialetto milanese, poi ha lavorato appunto con Febo Conti, Enzo Tortora, negli anni 50 è stata la prima attrice della compagnia stabile della RAI, e poi ha recitato con Dario Fo, Franco Parenti, Ruggero Ruggeri, Ernesto Calindri, ma anche Gino Bramieri. in tv ha partecipato al varietà Ciri Biribin con Ugo Tognazzi. L'arcivescovo è intervenuto nella sessione augurale del seminario di studio dal titolo Una storia che sa di futuro, l'ateneo dei cattolici italiani da un secolo al servizio del paese, promosso dal centro pastorale dell'università cattolica. La teologia può avere un ruolo fondamentale nella formazione delle giovani generazioni, ha detto Monsignor Mario Delpini. Sentiamo Anna Maria Braccini. Un augurio e insieme un auspicio perché la teologia e la dimensione religiosa cristiana, spirituale ed ecclesiale della vita mostri la sua pertinenza nell'elaborazione delle discipline accademiche e non sia solo una materia tra le altre. A dirlo nel suo saluto inaugurale del seminario di studio Una storia che sa di futuro, l'ateneo dei cattolici italiani da un secolo al servizio del paese, di ieri, di oggi e di domani, è l'arcivescovo, anche nella sua veste di presidente, dell'istituto Toniolo di studi superiori. Il seminario, promosso dal centro pastorale della cattolica e rivolto ai docenti di teologia e agli assistenti ecclesiastici, è un appuntamento atteso e tradizionale ogni anno. Il primo passaggio che indica il vescovo Mario è anch'esso relativo al concetto di futuro, con un chiaro richiamo alle giovani generazioni che in università si formano. Da qui il ruolo fondamentale che possono giocare la teologia e l'assistenza spirituale, pur tra tante complessità. Si ha motivo di sospettare che l'ambito teologico e pastorale sia una sorta di supporto consolatorio per i fallimenti accademici o le frustrazioni e le ferite della vita. Per questo l'augurio suona anche come una precisa consegna. Non saprei indicare altra via che la dinamica di una comunità radunata da una vocazione comune, animata da uno spirito comune, orientato verso l'unica terra promessa. Allora questo forse può dare qualche contenuto meno vago a ciò che i cristiani intendono per futuro e un contenuto meno vago a quello che intendiamo per formazione comprensiva delle giovani generazioni. Siamo in chiusura, vi ricordo subito dopo la sigla e le previsioni del tempo, l'appuntamento con Nova Stadio TG, tutte le notizie in diretta del calcio, tutte le notizie di giornata e poi con un particolare ovviamente occhio di riguardo alla vigilia della partita del Milan e poi che gioca domani in Europa. Poi un calcio ai social con Stefi Cattaneo e Luciano Rindone, poi ancora Nova Stadio, l'edizione lunga fino alle 23, conduce Michele Marchetti. Grazie della cortese, attenzione a tutti voi, l'augurio di una serena serata. Arrivederci.